Sì, diciamo che è stata una partita lottata fino alla fine, ci dispiace perché siamo andati subito in vantaggio e non pensavamo di perderla comunque. Sicuramente siamo stati disattenti su tutti e tre i gol e purtroppo quando sei disattento ti fanno gol. Peccato perché non abbiamo mai mollato, abbiamo fatto di tutto per riprenderla fino all'ultimo minuto. Buonasera Luca, sei anche andato vicino al gol, però questo Pescara è sembrato un po' a sprazzi. Siete la stessa idea? Secondo me siamo partiti forti i primi cinque minuti, poi ci siamo allentati, c'erano troppi spazi tra difesa e attacco e un po' ci siamo abbassati di intensità. Poi però secondo me siamo stati sempre nella metà al campo loro e abbiamo fatto comunque la partita. Secondo me è una sconfitta meritata perché secondo me il pareggio è il risultato giusto. Sì, io me lo sono ritrovato dietro alle spalle, ho visto che comunque Jarosyski è andato a contrasto, ho provato a raddoppiarlo, però se l'hanno portata in avanti l'ha messa dentro e sicuramente là potremmo fare più attenzione e evitare magari il cross. Ecco Luca. La squadra ha uno spirito diverso, la squadra va in campo e lotta fino all'ultimo secondo, cosa che non avveniva prima. Lo spirito è sicuramente cambiato, corriamo tutti quanti, abbiamo la voglia di vincere tutte le partite, comunque andiamo in campo per dare il massimo a tutti quanti. ma non l'ho vissuto bene perché comunque mi sono ritrovato che come hai detto te neanche venivo fra i convocati e sicuramente non è facile. Scelta tecnica del mister Oddo, che non mi vedeva nel suo metodo di gioco. Sicuramente non l'ho vissuta bene, però non ho mai mollato, mi sono sempre allenato al massimo perché comunque il calcio è così, comunque è una ruota e secondo me devi sempre far trovare pronto perché l'occasione è sempre dietro l'angolo. Cioè diciamo che non rientravi, scusa Luca per approfondire, non rientravi nei piani tecnici del precedente allenatore? Così mi è stato detto, mi è stato detto dopo il ritiro perché ho visto che non venivo impiegato, sono andato a chiedere spiegazioni, mi ha detto che per scelta tecnica nei piani tecnici non ero un giocatore che il mister voleva. Diciamo che poi si è ricreduto perché nell'ultima partita sei stato schierato titolare per la prima volta in questo campionato col Pordenone, nella sua ultima partita. Sì, come ho detto, io non mi è mollato, mi sono sempre allenato a 2000 perché comunque siamo professionisti e quando un mister comunque ha delle idee io personalmente cerco sempre di farle cambiare. Anche comunque non era facile perché mi allenavo proprio a parte, quindi non era facile. Poi quando è servito a un po' di, diciamo, di caratteristiche diverse in mezzo al campo sono stato chiamato in causa. Perfetto. Benissimo. Fisicamente stiamo bene, sicuramente non è facile giocare ogni quattro giorni, però fisicamente stiamo bene, dobbiamo recuperare adesso le forze per fare una gran partita a Pisa perché dobbiamo riprenderci quello che abbiamo perso oggi perché, come ho detto prima, è meritato secondo me. Grazie.